Per me, chi è Gesù? Un grande personaggio, un punto di riferimento, un modello irarrungibile? Oppure è il Figlio di Dio che cammina a mio fianco, che può portarmi fino alla vetta della santità, là dove da solo non riesco ad arrivare? Gesù è davvero vivo nella mia vita. E mi domando, Gesù vive con me? È il mio Signore? Io mi affido a Lui nei momenti di difficoltà, coltivo la Sua presenza attraverso la parola, attraverso i sacramenti, mi lascio guidare da Lui insieme ai miei fratelli e sorelle nella comunità. Maria, Madre del Camino, ci aiuta a sentire il suo Figlio vivo e presente accanto a noi.